Ieri mattina, a conclusione di complesse e articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, nell'ambito del procedimento penale convenzionalmente denominato Pedigri II, la squadra mobile di carabinieri del ROS di Trento e Reggio Calabria hanno dato esecuzione al decreto di fermo nei confronti di cinque soggetti indiziati del delitto di associazione mafiosa, in quanto appartenenti all'articolazione di indrangheta denominata Cosca Serraino. Contestualmente è stata data esecuzione dai carabinieri del ROS di Trento ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Trento su richiesta della locale Precura della Repubblica nell'ambito del procedimento convenzionalmente denominato Perfido, a carico di 19 soggetti indagati a vario titolo per i delitti di associazione mafiosa. Scambio elettorale, politico mafioso, porto e detenzioni illegali di armi da fuoco e riduzione o mantenimento in schiavitù. L'inchiesta, convenzionalmente denominata Pedigri II, coordinata dai sostituti procuratori della Repubblica di Reggio Calabria, Stefano Musolino, Walter Ignazzitto e Sara Merio, ha portato al fermo di indiziato di delitto e sequestro preventivo d'urgenza emesso, sussistendo il pericolo di fuga nei confronti dei seguenti soggetti, ritenuti tutti responsabili di associazione mafiosa. Grazie per la visione!